oh eccoci qua tornati finalmente dopo aver sventato i cani del malefico shoker che si è dimostrato più scarso quindi delle aspettative bene ora da quello che ho capito dato che ecco appunto vedete la task force è entrata in gioco dobbiamo sventare qualche crimine minore per aumentare la nostra reputazione appunto e non essere più diciamo perseguitato da questi fizi questi militari comunque si ora dalla minimappa vedo che sto andando a tipo sventare un furto di un'auto come quello che si era fatto l'altra volta bene troppo comoda lo scatto lo vediamo un po' eh ahhh ehi ehi uai si tutto sto po' tra acqua è mio ecco vai dov'è eccolo wow e sponda facciamo una a destra ecco perché tutto va ok guarda fuori tranquillo tutti i tuoi finestrini aperti tanto c'è qui ah no giallo lo rotto io non c'è oh ok quindi di qua non c'è nessuno che mi divieto ci sono un messaggio ci sono un messaggio cazzo cazzo vai piano piano eccolo qua tac bel fatto andiamo giù ora non possono più parlare i coglioni che fa e escono i fiumi di qua fiumi di ragnatele escono vabbè ecco fatto spiderman è entrato in azione fermato la cienga vi come commenta priontamente le nostre imprese ok ora prossimo crimine penso prossimo e ultimo dato che devo avere una reputazione positiva per non avere più la tasca forse in mezzo a coglioni dove vado vediamo prenderò quello non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è allora ecco andare con le r1 vedi scatti di rango divertente se non hai appigli appi scatti rani usc fa tutto lui perfetto poi voglio andare all'alusi di tutto indietro tranquillo è un po' malata una cosa non ha non sa dove andare ritorno indietro davanti vediamo la ok poi no la perchè non ci va oh un incendio ok vediamo a che cazzo sto non riesco a mai fare non c'è nemmeno in spiderman 2 c'era un incendio vediamo un po' aiuto sono intrappolata non c'è 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 aspetta ecco ok allora ne vedo uno laggiù ecco eh tirami fuori da questo mollo si va ecco giù ma io ho brutto presentimenti sto perdendo sei un grano cazzo non ho un cazzo di tempo va a tutto fuoco spade mi perde tempo a fa eccolo qui il prossimo no forse non perdo forse si cazzo non mi rimane una siga di tempo dove cazzo eccolo la cazzo sto pestando va perdo perdo muoviti ah ah prendo anche il fuoco vai grazie ecco la dovrebbe venire Whitney shenga a commentare preontamente grazie il belly bugle è troppo aggiornato grazie Whitney ah ok che è successo a central park angolo sud ovest andate a dare una chiave la centrale l'angolo sud ovest del parco dovrei arrivarci per primo pochi isolati a passo di radio che cazzo succede ah non è quel vaffanculo è agiabile central park oh oh times square aspettavo no qui c'è la scena del film assurda cazzo troppo bella la prima volta che si incontra con non mi ricordo come si chiama elettro si dai su dove va e la novità dov'è attaccati all'albero ragazzi eccoci siamo ecco lì che gang da strapazzo non ci sono prove certo non mi metto contro qualcuno qui non ci sta come se accorti i miei mentre i team non si mettono accorti vai vi cappa manai e si risolve tutto questo non lo faccio non lo faccio non lo faccio non lo faccio toccare non lo faccio toccare e e 1 meno 1 no 1 meno 2 5 e meno 3 bella anche con una città meno di freni ora devo trovare quello che è scappato allora ah appunto è compito tu che cazzo è successo ma che posso aiutarti ok signor craven il cacciatore hai la mia attenzione craven il cacciatore ecco il tizio con la pelliccia a posso so di si ebbene adesso si va la ok raggiungi la stazione degli autobus anche vicino va su eccolo c'è un cazzo di stallo della polizia eh una sparatoria ora bene come li voglio fare tutti tutti cioè li voglio stendere tutti in furtivo vediamo se ci riesco allora 3 sono qua 3 però con le gira qua bellissimo adesso qua i busse i busse ecco sotto coi proietti di perforzi bella c'è anche mezzo di fuori anche mezzo di fuori si 2 vai è tutto uguale questo ok qua vai c'è perfetto però questi mi conviene salire ehh dove puoi vai oh posso ah si ok tac bene statti due da dietro subito ma dai stronzata ah vai 5 6 va 6 di 6 bella ehh ma questa fa si una madonna ah scossa sismia quella che ho imparato da shot vai via fa un manacchino ok questa faceva pietà vabbè vabbè si ma si rimane ferma lì è una cosa ah di stabilità spiden anzi ci fa c 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6.0 la risoluzione tutta insieme c'è il tramonto impressionante stavolta inoltre immagini esperto abbastanza esperto da battere i tuoi amici sono russo ma quei maiali non sono miei amici mi chiamo Sergei Kravinov ma mi chiamano Kraven il cacciatore mi hai lasciato tu quel biglietto a giudicare dal web sei uno di quei matti da reality show che va in giro nudo per i boschi a mangiare insetti come puoi aiutarmi posso renderti un vero cacciatore non solo un bambino che finge di essere un uomo se accetti la mia offerta sosto puoi trovarmi qui alla prossima volta che personaggio che vorrà jjj mi piace signor jameson ma ho la scuola lì jjj jj jj jjj jj ok va la raggiungiamolo e chiudiamo però dov'è va la vabbè ma tanto per senso il party tutt'istia No Ho il culo Però un bagnetto mi fa E la coppulita di Central Park No, non c'è l'arte Sono un bro boss Un bro boss Ci siamo A Stoloft Ci siamo Ci siamo, ci siamo Ti servono informazioni su Kraven E hai un tesserino stampa a disposizione Facile, facile Se scopre che sei un fotografo Nel loft di Kraven Ci entriamo Nella prossima Nella prossima puntata Barra episodio Quindi io ragazzi Vi saluto qui Ciao a tutti E alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.